Buongiorno, sono Rosselli Francesco, gestore dei fonti a cappuccini qui a Pescharia del Garda. Perini è il mio fornitore da 9 anni. Collaborando con questa azienda Perini mi sono sempre trovato molto bene. Ogni anno ci sono sempre delle novità, sempre a passo con la moda e con le nuove bevande che escono nel mercato. È sempre molta scelta su cosa un cliente vuole. Io consiglierei questa ditta Perini perché sono sempre disponibilità su tutto. È un'azienda familiare, sono molto disponibili e quasi un servizio 24 ore. Grazie a tutti.